Bestia nera era e Bestia nera si è confermata. La Amen Scuola Basket Arezzo cercava il riscatto sul campo della Sibe Prato dopo la sconfitta nel derby contro il Costone Siena. Che la Sibe Prato fosse una squadra molto forte già non si sapeva visto che in estate aveva rimpiazzato il partente playmaker Marchini Condanesi altro pezzo da 90 per la categoria proveniente dalla C-Gold dove era il regista della Geo Nova Lucca che aveva guidato fino alla semifinale playoff. Prato poteva contare già su ben 5 giocatori che avevano più di 10 punti realizzati a partita oltre a Danese anche Fontani, Pinn, Staino e Tahiti hanno portato alla scuola di Pinelli un contributo offensivo di primordine che hanno confermato anche contro l'Amen Scuola Basket Arezzo. Primi due quarti tutto sommato equilibrati il primo si conclude 10-9 per Prato all'intervallo lungo le squadre arrivano sul 39-34 per i Lanieri. È nel terzo quarto che però l'Amen Sba perde contatto con gli avversari tanto che Prato lo chiude con un vantaggio di 66-45. Sibbe Prato cala nell'ultimo quarto ma l'Amen Sba la rimonta proprio non riesce. Finale 77-65 per la Sibbe Prato per l'Amen Scuola Basket Arezzo è la seconda sconfitta consecutiva. Magrante la forza degli avversari per l'Amen Scuola Basket Arezzo suona il secondo campanello d'allarme consecutivo. Una situazione da raddrizzare visto quali erano le aspettative di inizio campionato.